Specializzati nelle truffe del resto, avevano scelto il casentino per mettere a segno altri raggiri, ma si sono trovati di fronte ad un barristattento che li ha smascherati e così due equipaggi dei carabinieri della compagnia di Bibbiena li hanno incastrati in viale Europa a Poppi. Nei guai sono finiti due cittadini romeni di 26 e 28 anni, con precedenti alle spalle, che erano arrivati nella vallata dal litorale laziale a bordo di un'auto con targa francese, probabilmente pensando che questo avrebbe ostacolato la loro identificazione se fossero riusciti a mettere a segno le truffe. I due prima hanno colpito un bar di Bibbiena, dove dopo aver consumato, al momento di pagare, hanno presentato delle banconote di valore superiore alla consumazione. Attendendo il resto, hanno fatto scattare una serie di stratagemmi con l'intento di confondere il titolare, che però, esperto del mestiere, ha immediatamente compreso le intenzioni dei truffatori. Il barista ha quindi allertato il 112 e fornito ai carabinieri un'esaustiva descrizione dei due malfattori, che si erano già diretti verso Poppi per individuare un nuovo obiettivo da colpire. In viale Europa i militari hanno così intercettato la Citroen francese. Dall'immediato esito degli accertamenti sul conto dei due, i carabinieri hanno scoperto che già in passato avevano commesso azioni simili. A loro carico è così scattata una denuncia per tentata truffa in concorso e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal comune di Bibbiena.